Al terzo posto a Italia's Got Talent l'esibizione di una cantante dalla voce dolce e suave. Ma in Hispania sono già mille e tre. Brava! Ha trovato il modo per farsi ascoltare. Sì, ha fatto la voce grossa. Poi è il turno di un rumorista in una performance bestiale. Vai con il gallo!